Ciao, ho deciso di fare questo video perché ci sono molte persone che mi chiedono in privato che cosa penso delle aste. Devi sapere che io anni fa ho fatto tantissime aste, c'è stato un anno nel quale ho fatto quasi un migliaio. In questo periodo per me le aste non vanno bene e quindi quest'anno effettivamente forse ne avrò fatte due o forse tre, non mi ricordo. Perché? Per quale motivazione? Quindi parto per dirti che cosa penso delle aste. Le aste secondo me sono ottime, quindi sono un ottimo strumento per noi investitori immobiliari. Io in questo momento non le utilizzo perché le grandi città, quindi in questo momento io chiaramente lavoro su Milano, non funzionano. Perché questo? Perché ci va la massa. Quindi succede un po' come quando ci sono anche le bolle, nel senso che se tu ti ricordi per esempio fino a poco tempo fa nessuno parlava inizialmente dei bitcoin, poi ad un certo punto hanno cominciato tutti a parlare, guarda a caso il prezzo è salito e poi è crollato. La stessa cosa vale quando arrivano delle informazioni alla massa, quindi la massa è arrivata all'informazione che all'asta ci fanno gli affari eccetera e quindi le grandi città sono piene di persone e quindi i prezzi schizzano alle stelle molto spesso. Ecco perché io in questo momento non le sto facendo. Per quale motivo? Perché sono focalizzato soprattutto nel mercato libero. Non ti nego che ogni tanto do un'occhiata e se capita mando qualcuno magari a farla oppure ci vado io. Quindi questa cosa può sicuramente capitare e quindi magari da un momento all'altro io riprendo a fare aste. Le persone molto spesso non sanno come funziona un'asta. Parto per dirti che praticamente che cosa succede? C'è una persona che ha comprato un immobile, quindi su questo immobile molto spesso le persone fanno il mutuo e quindi capita spesso che le persone non pagano il mutuo oppure non pagano la nata della macchina oppure non pagano le spese condominiali. Quindi uno di questi soggetti può fare quello che viene chiamato un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo praticamente dice a questa persona che deve pagare entro x tempo prima che avvenga una procedura giudiziaria che manda fondamentalmente la casa in asta e quindi che li fa rientrare del loro credito. Quindi debito del proprietario, credito del creditore. Se questa persona non paga in quel periodo di tempo la casa viene mandata in asta, quindi viene mandata in asta, il giudice emette quello che viene chiamato un'ordinanza, un'ordinanza di vendita, quindi nomina un delegato alla vendita, viene nominato anche un custode giudiziario. Quindi a questo punto che cosa succede? Il delegato alla vendita tramite l'ordinanza del giudice emette quello che si chiama bando. Il bando è praticamente che non ha solo questo nome, io lo conosco come bando, può essere chiamato anche avviso di vendita per esempio. Il bando praticamente contiene tutto quello che dice l'ordinanza di vendita, quindi le tempistiche per pagare l'appartamento, in quanto tempo bisogna fare praticamente quest'asta, quindi quando verrà fatta l'asta, i metodi di pagamento, quanto è l'assegno che devi versare, i documenti che servono per presentare la domanda e tutta una serie di cose. Quindi qua viene elencato tutta la procedura di come andare a fare l'asta. Quindi tu praticamente puoi andare a vedere sul sito del tribunale per esempio, puoi andare a cercarti tutte le case in asta. In quel sito tu ti trovi praticamente dei documenti riguardo quell'immobile, quindi ti trovi l'ordinanza che è quella che appunto ha fatto il giudice nel quale ha nominato il legato alla vendita, che è la persona che terrà fisicamente l'asta. Di solito una volta si facevano direttamente in tribunale, ultimamente lo fanno di solito i professionisti, quindi lo fanno preso lo studio, uno studio notarile, quindi può essere un notaio, possono essere avvocati, possono essere anche commercialisti, quindi ultimamente. Che cosa succede? Praticamente danno una data nella quale dicono ipotizziamo tra 4 mesi si terrà l'asta, viene pubblicizzata su diversi portali, giornali, eccetera, quindi un po' dappertutto e vengono messi tutti i dati di quell'immobile, quindi viene messo l'ordinanza di vendita, il bando, quindi l'avviso di vendita, che ho detto prima che alla fine riporta quello che c'è scritto nell'ordinanza, quindi in modo più specificato. C'è la perizia dell'immobile, ci sono a volte le planimetrie, ci sono a volte le foto, non sempre trovate questa informazione qua. E c'è ovviamente il numero di telefono o l'email del curatore, quindi la persona che si occupa di tenere l'immobile, quindi il custode giudiziario viene chiamato. Per esempio a Milano c'è una società molto grossa che si chiama Sivag. La Sivag prende forse l'80% se non di più degli immobili, quindi loro sono i custodi. Quindi queste persone sono quelli che vi fanno visionare l'immobile fisicamente. Non sempre è possibile farlo, perché spesso e volentieri, per diverse motivazioni, che non posso stare qua a elencare perché altrimenti diventa troppo lungo, magari mi faccio un video proprio solo di quella cosa lì, molto spesso non li fanno vedere. Quindi a volte fissano appuntamenti con 15, 20, 30 persone, altre volte magari voi non riuscite neanche a vedere l'immobile. Se voi volete partecipare, quindi la cosa più importante è chiaramente prima prendere atto di tutto quello che c'è scritto in perizia, eccetera, quindi valutare bene tutto l'immobile sulle difformità, su come è fatto, la planimetria, in che è stato si trova, se è occupato o non è occupato, c'è tutta una serie di cose che sono diciamo delle cose tecniche. Quindi diciamo che per chi è alle prime armi, se non impara bene tutti questi meccanismi diventa un pelino difficile. Però fondamentalmente dal punto di vista di come si fa è abbastanza semplice, cioè io posso prendere appuntamento appunto con la persona che si occupa col curatore fondamentalmente, quindi con questa persona vado a visionare l'immobile, dopodiché posso fare un'offerta, quindi faccio la compilazione dell'offerta con tutti i dati dell'immobile, la dichiarazione che ho visionato, tutta la documentazione, ho visionato l'immobile, tutta una serie di cose e poi devo versare un assegno, un assegno che è caparra. Questa caparra se voi poi dopo vi tirate indietro viene trattenuta direttamente dal tribunale, non solo, mi chiedono anche i danni. Però normalmente diciamo questa caparra di solito è del 10%, però anche lì può cambiare in base a quello che dice il giudice. Quindi che cosa succede? Praticamente si compila l'offerta fondamentalmente e di solito si mette dentro una busta chiusa, quindi questo è per quello che riguarda l'asta senza incanto viene chiamato, che poi in realtà se ci sono altri offerenti diventa con incanto, perché aprono le buste e cominciano a fare una gara. Quindi a questo punto voi potete fare la vostra offerta che di solito è indicata appunto anche nel bando, quindi quant'è l'offerta minima. Ad esempio ultimamente è possibile fare delle offerte anche inferiori del 25% rispetto al prezzo base. Quindi ipotizziamo, io posso leggere in perizia un immobile che secondo il perito, quindi quello che ha fatto la perizia costa 100.000 euro per un determinato motivo, ma mi è permesso fare il 25% del prezzo base. Quindi la casa probabilmente è già andata in asta altre volte e quindi magari parte da 50.000, nonostante il perito l'abbia periziato a 100.000. Quindi parte a 50.000, quindi questo è il prezzo base. Voi potete fare un'offerta al 75% del 50.000, quindi con uno sconto del 25%. Quindi questa offerta è ritenuta valida se non si presentano dei creditori eccetera. Vi dico la verità, con me non si è mai presentato nessuno, non si è mai insinuato nessuno. Loro di solito vogliono prendere i soldi e quindi diciamo che a loro va bene così la maggior parte delle volte. Quindi potete fare questa offerta, se siete da soli vi aggiudicate direttamente l'immobile. Quindi ovviamente questa offerta come ho detto prima deve essere accompagnata da tutta la documentazione che c'è scritta nel bando, quindi di solito sono i documenti di identità, bisogna compilare bene l'offerta e l'assegno che si mette, oltre a mettere dentro una marca da bollo da 16€ che si mette direttamente sull'offerta, quindi si appiccica sull'offerta eccetera. Quindi in questo modo viene fatto. Se per esempio voi fate la proposta e siete in 2, 3, 4, 5 persone si parte dal prezzo più alto, cioè qualcuno magari ha offerto ipotizziamo 40.000 ma un altro offerto 45, si parte da 45.000. Quindi da lì c'è una gara a rialzo. Di solito nel bando c'è scritto anche di quanto voi potete alzare il prezzo come minimo. Quindi colarsi che sul bando sia scritto per esempio che il minimo a rialzo sono 1.000€, voi potete fare per esempio 46, 47, 48, nessuno vi vieta di fare direttamente 60.000. Quindi questa è una cosa importante. Chiaramente bisogna andare come ho detto prima a leggere il bando. Una volta che è finita la gara, a questo punto il delegato dice chi ha vinto l'asta, quindi di solito passa un minuto, di solito ci vuole un minuto per fare le offerte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io per esempio ho offerto 48.000, vi faccio un esempio, ed è l'ultima offerta che è avvenuta in quel momento, di solito si fa dicendo nome e cognome e prezzo offerto. Di solito vi dicono non dire solo 48 ma voglio sentire 48.000€ per esempio. Quindi io faccio 48.000€, passano 55 secondi, ancora per 5 secondi c'è una persona che può offrire di più. Quindi se questa persona offre di più riparte un minuto di tempo per poter fare delle offerte. Quando scade un minuto, quindi quando alla fine di un minuto nessuno fa più proposte, a quel punto l'immobile viene giudicato a questa persona. Ovviamente una volta che è stato giudicato a questa persona vengono inviati tutti gli estremi per il pagamento, quindi per il saldo prezzo, per il saldo delle spese e via dicendo, e poi viene emesso il decreto di trasferimento che poi deve firmare il giudice. Alla fine di questa cosa, una volta che voi avete pagato, che viene emesso il decreto di trasferimento eccetera, di solito vengono consegnate le chiavi se l'immobile è libero oppure devono liberarlo se l'immobile è occupato e lo devono liberare loro, che non sempre è così. Quindi questo è giusto per darvi un'infarinatura su quello che è il mondo delle aste. Vi può sembrare molto difficile, se l'avete sentito per la prima volta, vi posso dire che in realtà non è così. Quindi ci sono delle tecniche che permettono chiaramente di aggiudicarsi degli immobili che sono molto convenienti, che permettono di liberare gli immobili quando sono occupati e tutta una serie di cose. Quindi se avete delle domande, dei commenti eccetera, postateli qui sotto e appena avrò il tempo vi risponderò. Ciao!